Se vediamo gli occhi, vedete un occhio guarda in basso, un occhio guarda in alto, una famiglia che fu costruito tutto granito, che vedrete, gli altri edifici sono molto più e anche se vedete, il ha detto, il ciò che ha avuto il truppo di Soprano, il frattato di Soprano, il truppo di Soprano, il Foda, ti chiederò di essere qui con noi, per accettarsi tutti voi, ma infine, è sulle persone, ma è sulle persone, I'm chairing some delegation in Hungary.